Benvenuti alla nuova rubrica insetti in pillole, in cui affrontiamo i problemi di insetti infestanti in meno di un minuto. Il tema del giorno è le formiche. Le formiche sono insetti sociali, mandano in giro delle operaie esploratrici deputate ad assaggiare il cibo e a portarlo all'interno della colonia dove si trova la regina. La tecnica più efficace per eliminare le formiche in maniera ecologica, efficace al 100% e talmente semplice da utilizzare che potrai applicarlo tu stesso è il gel alimentare che vedi nelle immagini. Le formiche lo prenderanno, lo porteranno all'interno del nido autodistruggendo la colonia. Per maggiori informazioni contattaci all'800 926162